Benvenuti su Real World Channel Oggi spacchettiamo 17 Rollins e li mettiamo dentro nella novicella Star Destroyer Ok, per prima cominciamo ad aprire questo Prima di aprire i Rollins vorrei dirvi di mettere sempre like su e iscrivetevi al mio canale Quindi cominciamo ad aprire i Rollins E troviamo questo che è Generale Grievous E' anche bello, sapete ragazzi? Ok, lo mettiamo qua Adesso il prossimo è questo Spero di trovare tanto io adoro Ok, adesso ora troviamo questo qua Questo qua Che si chiama Maz Kanata Eccolo qua Ok, poi apriamo questo Che è Padme Amala Eccolo qua Poi Adesso ora c'è questo Apriamo questo Qua Abbiamo trovato Yoda Che ce l'ho già di doppione Ok Adesso ora Apriamo Questo Ed è Poedameron Sì 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 Proviamo grido Oh che bello grido Per me è molto carino Per me è molto carino Ok Adesso ora Troviamo Vediamo che troviamo Abbiamo trovato un'altra volta Il Generale Wow ragazzi Guardate che questo Generale Ha cinque mani No aspettate Quattro volevo dire Quattro ragazzi Avete visto? Allora un mostro Grievous C'ha quattro mani Wow Che bello Ok Adesso ora Spacchettiamo Questo Abbiamo trovato Yoda dorato L'ho trovato ragazzi Ho trovato Yoda dorato Wow Che bello Yoda dorato Sono veramente fiero E molto felice Ma molto ragazzi Wow Che bello Abbiamo trovato questo qui Ok Che si chiama Capitano Pasma Wow ragazzi Oggi sono fortunata A trovare Yoda dorato Lo sapevate che BBotto Se lo trovate Lo mettete al buio Glow in the dark Ok Yoda Un'altra volta Ok Adesso ora Troviamo Non ci troviamo Troviamo Questo qui Che si chiama Allora Django Fett Django Fett si chiama Ok Ok Adesso ora Troviamo Ragazzi lo sapete Che se ritrovo L'ho dorato Sono un'altra volta Contento Poi se ne trovo Di triplo Sono triplo contento Ed è Un'altra volta Poe Dameron Giamelli di Poe Dameron E poi Qua troviamo Questo non ce l'ho Si chiama Lando Cal Rissan Sembra che viene Dell'India ragazzi Vero Ok lo mettiamo Adesso ora Troviamo Padme Amala Lo mettiamo Con la sua gemella Adesso ora ci sono I gemelli Yoda I gemelli Dameron I gemelli I gemelli Gravius E i gemelli Admala Wow Ci sono per fin I gemelli Yoda E Chi troviamo Abbiamo trovato Finn Eccolo qua Che non ce l'ho Ok Spacchettiamo Il penultimo Ok E Akbar L'amiraglio Akbar Eccolo qua Ok L'ultimo Proviamo L'ultimo Proviamo L'ultimo Ed è Grido Grido Eccolo qua Con il suo gemello Ok ragazzi Abbiamo Spacchettato Tutti i Rolli Adesso i Rolli Mettiamo Nel Star Destroyer Allora Allora Mettiamo Allora Mettiamo per prima Finn Che è qua Eccolo qua Finn Eccolo qua Poi mettiamo Il generale Gravius Che è questo qui Poi mettiamo Maz Kanata Kanata Mi fa ridere Un nome giapponese Ok Adesso Adesso Mettiamo Questo che è Lando Che è Lando Clarissime Ok Adesso Mettiamo L'amiraglio Akbar Ok Questo qui Poi Vediamo Che ci abbiamo Ancora Basta Ok ragazzi Ragazzi Vi devo dire una cosa Mettete Un like Su questo Video E Spero che vi piace La mia collezione Dei Rollins E Sono veramente Contento Di aver trovato Io ad adoro Veramente Felice Ok Mettete un like E iscrivetevi Al mio canale Ciao Ciao Ciao